In aula consigliare a Gela il clima non è affatto sereno, anzi si respira aria pesante. Le fibrillazioni sono all'ordine del giorno. C'è chi giustamente protesta perché c'è il rischio concreto di perdere il proprio posto di lavoro. Ci riferiamo agli operai dell'indotto, dello stabilimento Eni, ai lavoratori della Tecra. Protestano anche chi ha occupato per anni abusivamente gli alloggi dell'Istituto Autonomo Case Popolari, destinatari degli sfratti a seguito di una sentenza del Tribunale. E poi ci sono anche gli studenti e i docenti che dicono no alla riforma Renzi e le mamme degli alunni che dicono no al dimensionamento scolastico. E l'elenco continua con le lavoratrici della riflessione scolastica e con chi si occupa del trasporto dei disabili. Un vero e proprio calderone. Un giorno sì e l'altro pure c'è una protesta dinanzi al Comune che poi prosegue anche dentro l'aula dove si svolge il Consiglio Comunale. Ma non soltanto le proteste relamentele di chi dall'amministrazione vuole una mano d'aiuto concreta, immediata. Ci sono anche le bacchettate che giungono direttamente dagli scranni occupati da coloro i quali sono legati al Movimento 5 Stelle. Ci riferiamo al gruppo consigliare formato da Virginia Farruggia, Angelo Amato, Enzo Giudice, Simone Morgana e Sara Cavallo. Giorni e dietro Angelo Amato ha chiesto che la Giunta venga mandata a casa perché sta distruggendo il sogno del Movimento. Ed ieri sera la nota, redattata dal gruppo consigliare Grillino, che esprime, si legge, uno giudizio non positivo in ordine all'attuale attività amministrativa della Giunta messinese, ritenendo le attività troppo volte non coincidente con i principi programmatici del Movimento stesso. Volendo portare avanti quanto espresso nel programma elettorale 5 Stelle, che riteniamo essere la mappa per il cambiamento della città, sottolineano i firmatari, e ritenendo il lavoro della Giunta non coincidente con l'orientamento programmatico, il gruppo prende le distanze dall'azione finora svolta dalla Giunta e chiede al Sindaco e agli Assessori di assumere tempestivamente le opportune azioni volte a realizzare quanto manifestato nel programma elettorale Movimento 5 Stelle. Parabola significa che il matrimonio è quasi compromesso e sono passati solo 5 mesi, nel linguaggio calcistico significa solo una cosa, alla prossima partita persa saltano allenatore e compagnia cantante, ed anche in politica, se vogliamo, all'identico significato.